In a 15 nebbia tra Pontremoli e Berceto, sulla statale Trebis Tiberina riduzione di carreggiata per fondo stradale dissestato tra Modo Annunce a Poggiolino e Sansepolcro Nord, sulla statale 12 della Betone e del Brennero senso unico alternato per Frana tra Popiglio e La Lima, la viabilità cittadina a Firenze fino al 16 marzo di vieto di transito per i lavori della tramvia all'incrocio tra via Pisacane e via Mazzoni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!